Tutto pronto? Partiti! Parte bene Kip Wright dal centro del gruppo, prova a fare l'andatura ma all'interno è abbastanza veloce anche Caccia la Volpe, Crixus si posiziona tra questi due, poi c'è Brillantina ancora più all'esterno, Miss Ginevra, Furrys, Novelle Boutet e chiude il gruppo Sonne. Un gruppo come detto ben raccolto, davanti c'è Caccia la Volpe, a tre quarti si posiziona Kip Wright, la cui schiena è presa in questo momento da Brillantina, poi Crixus quarto all'interno, Miss Ginevra è quinta all'esterno, poi tra questi due c'è anche Furrys, Novelle Boutet e Sonne che chiude il gruppo. Quando i cavalli sono già a metà curva con Caccia la Volpe in vantaggio, ancora ai suoi fianchi si posiziona Kip Wright, in terza posizione tra questi c'è Brillantina, poi Crixus all'interno, Miss Ginevra all'esterno, Furrys che temporeggia, Sonne che pesca un barco all'interno e Novelle Boutet che adesso proverà la rincorsa dalle corsie esterne. Crixus prova ad andare a prendere Caccia la Volpe e Kip Wright che si presenta all'esterno, molto bene, stessa cosa fa Brillantina che adesso sposta ancora più all'esterno, poi c'è Furrys, Miss Ginevra è ancora allo steccato opposto, c'è Novelle Boutet, Kip Wright si stacca in lotta con Crixus, quest'ultimo che tende a passare 200 dal palo ma dall'esterno arrivano anche molto forti, Novelle Boutet e Brillantina. Kip Wright è in vantaggio nei confronti di Crixus, i due che si staccano in lotta, serratissima, Kip Wright all'esterno di Crixus, lo giustizia nei confronti, poi al terzo in Novelle Boutet. Vince dunque Kip Wright, numero 5 dello schieramento, Marcellino Belli in sella, la quota di 8,12, il training è quello di Francesco Natalizzi, i colori sono sempre di Francesco Natalizzi, la quota al totalizzatore come detto, 8,12, al secondo posto Crixus e poi Novelle Boutet. Grazie. 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 Grazie.